Vendere articoli di lusso su Vinted è ancora più facile Col nuovo servizio facoltativo di verifica dell'articolo I nostri esperti controllano l'autenticità dei prodotti griffati Così tu e l'acquirente potete fare affari con più serenità Vendi moda di lusso di seconda mano in tutta tranquillità E sempre senza costi di vendita Carica su Vinted oggi stesso Grazie